Buongiorno e buona domenica a tutti, buona domenica cari amici, oggi faremo una cosa che di solito non si fa, cioè non parleremo dell'attualità. Perché dico questo? Perché mentre tutti immagino parlino, siano concentrati sulla partita di oggi, noi andiamo in controtendenza, cioè parliamo di mercato, visto che tutti parlano di mercato. Quando noi parliamo di calcio oggi parliamo di mercato, quindi ci distraiamo rispetto alla partita di questa sera. Mi scuso per ieri, purtroppo c'è stato un problema tecnico, cioè un problema di periferica di ingresso. Avevo collegato un microfono ma in computer, insomma, la magia di Windows. Troveremo una soluzione anche a questo. Dunque, grazie anche per esservi invitati alla pizza di questa sera, vi aspetto numerosi, ne farò però di un tipo, non ne farò di tanti tipi perché non possiamo, adesso, non prendiamoci troppe confidenze, no, cari amici. Bene, dunque, parliamo di mercato. Allora, qual è la questione? La questione è che facciamo un po' il punto della situazione e vi faccio un nome per l'attacco che si è letto in questi giorni e potrebbe essere un nome molto interessante. Intanto situazione. Allora, in difesa, noi abbiamo un Romagnoli che a quanto pare, insomma, parla con la Lazio, sembra che la destinazione sia quella, immagino che la Lazio sia alla ricerca di un difensore per la prossima stagione, visto che quest'anno ha avuto grosse difficoltà, non tanto ieri sera, chiaramente, dove ha dominato la partita, ma in generale ha avuto grossi problemi in fase difensiva, quindi penso che a questo punto Romagnoli se ne andrà. Un po' per evidenti, come dire, mancato accordo e un po' probabilmente perché, al di là di quanto il giocatore potesse abbassare le proprie pretese, evidentemente al Milan, le valutazioni che sono state fatte non sono solamente tecniche, cioè non sono solamente di contratto, ma sono anche tecniche. Evidentemente si vuole fare qualcos'altro, si vuole avere un difensore con caratteristiche diverse, si vuole avere un giocatore che, come dire, probabilmente se sarà Botman, abbia più caratteristiche di impostazione. In attesa che ritorni Kier e tutti speriamo naturalmente che Simon possa tornare ad altissimi livelli, perché avere un pacchetto difensivo con Tomori, Kier, Botman eventualmente, Gabbia, Calulu, Teo, Calabria, Florenzi, che spero venga riscattato, insomma è una cosa non certo di sdicevole, tutt'altro. Quindi credo che ci siano proprio delle ragioni anche di modo di giocare, di caratteristiche del giocatore che la nostra dirigenza vuole cambiare. Quindi penso che Romagnoli non rinnoverà. Su che sì, ormai ci siamo messi tutti il cuore in pace, insomma anche i più ortodossi per quel che riguarda la cessione, penso che ormai abbiano capito che si se ne andrà, gli auguriamo buona sorte, insomma diciamo che gli altri che se ne sono andati fino adesso non è che abbiano avuto un grandissimo destino, un grandissimo futuro rispetto a quello che potrebbe essere ad esempio il destino del Milan e quindi il suo ritorno, perché si chiama Milan, però anche lì voglio dire le richieste evidentemente sono state veramente folli da parte del procuratore, da parte del giocatore. Non si possono scindere le due cose, nel senso che non è giusto parlare male del procuratore e giustificare il giocatore. È un po' il discorso di Donnarumma, non è che Donnarumma non fosse voglioso di avere le cifre che chiedeva, cioè era una, come dire, se tu metti in vendita una casa e ti affidi ad un agente immobiliare lo fai perché sei d'accordo con lui e le sue valutazioni, no? Non è che dici no, io mi accontento di 100 e lui chiede 200 e tu diciamo dai dici vabbè e non la vendi mai. C'è una comunione di intenti, quindi anche lì tra che sì e il suo procuratore c'è un'intenzione di cambiare anche rotta. Poi dopo, soprattutto questo, forse anche per Romagnoli, c'è quella famosa considerazione, che ormai secondo me è abbastanza vicina alla realtà, del ricambio proprio generazionale, cioè del ricambio proprio di persone che hanno vissuto un certo Milan e che se prima potevano servire in un certo senso anche da un punto di vista di esperienza rispetto a un Milan mediocre e che quindi potevano avere, potevano portare con sé anche la voglia di riscatto e il fatto di poter spiegare che cosa era diventata questa squadra, adesso probabilmente non servono più. E quindi si va verso altre strade, si va verso un rinnovo totale del parco giocatori sostanzialmente, tranne quelli ad esempio come Calabria che hanno dimostrato di poterci stare, hanno dimostrato anche di, come dire, di non discutere di rinnovo più di tanto, la stessa cosa a Teo, la stessa cosa a Benasser la prossima settimana, la stessa cosa a Leao nel momento in cui, come dire, si completeranno i dettagli di quella vicenda legata allo sporting, legata, lo sapete, quella storia spiacevole ma che comunque pare che Lil pagherà. Pagherà forse con i soldi che noi gli daremo per Batman. Ecco come poi dopo si va incontro anche ai giocatori, si dice beh guarda allora tu rinnovi queste sono le condizioni, perfetto, poi dopo io ti do anche una mano, mi compro un giocatore e Lil usa quei soldi anche per pagare quella cosa lì, no? Potrebbe essere una cosa sempre di finanza creativa come dicevamo venerdì. Va bene. Detto questo il cambio potrebbe essere dunque Romagnoli con, per Botman per Romagnoli in difesa e poi a centrocampo avremo Adli che arriverà e sarà una bella sorpresa secondo me, ma proprio una bella sorpresa, un giocatore che avrà bisogno di un attimo dal mio punto di vista per prendere confidenza col campionato, appena lo farà sarà un giocatore che tutti ameremo. Poi dopo c'è appunto Adli entra e che si esce diciamo idealmente seppur giocatori diversi, caratteristiche diverse, quindi vedremo poi a centrocampo che tipo di centrocampo si vorrà fare, visto che Tonali e Benasser saranno due colonne portanti e poi dopo intorno roteranno altri giocatori. Credo che Baccaio Ko ci saluterà, credo che Pobega, io sapete lo sponsorizzo, per me è un giocatore che poteva starci benissimo quest'anno in questo Milan, ma insomma le valutazioni sono state quelle evidentemente di volergli far fare ancora un anno di esperienza in Serie A e va sempre bene, fin dei conti se il giocatore mantiene ogni anno che gioca in Serie A, mantiene un certo livello, va benissimo, va benissimo che resti in prestito, certo diciamo che adesso sarebbe tornato più utile rispetto a Baccaio Ko, questo è vero, però insomma le cose dopo vanno in certi modi, non è che tutte le scelte possono essere prese, possono essere azzeccate al 100%, capita anche di fidarsi di certe intuizioni che magari poi tali non sono. Questo discorso del centrocampo, il discorso dell'attacco, ora si continua a battere sul rinnovo di Ibra, Ibra potrebbe rinnovare per un altro anno dopo gli spareggi mondiali, anche se ormai ci siamo, mancano due settimane e mezzo, tre agli spareggi mondiali, quindi direi che ci siamo da quel punto di vista, se ne riparerà in primavera, ovviamente, come dire, anche lì è stata tirata un po' la volata al rinnovo di Ibra, poi dopo probabilmente le cose sono un pochino più in corso d'opera, si dovranno valutare le condizioni, si dovranno valutare anche le possibilità di alternative, come vi dicevo un'idea potrebbe essere quella che si sistemano in maniera precisa, chirurgica e scientifica come diceva Vittorio Gasman, gli altri reparti e poi dopo sull'attacco si cerca di fare con quello che si ha, però è uscito un nome interessante, che potrebbe essere il sostituto di Ibra, che è quello di Ivo Corighi, l'attaccante del Liverpool che è in scadenza di contratto, non ha rinnovato, ha un ingaggio, adesso sapete che io sono l'ingaggio, intanto dico delle sciocchezze, quindi prendetela con le pinze e se sbaglio corrigetemi, dovrebbe avere un ingaggio su 2 milioni e mezzo di euro a stagione, netti, credo, ma poi mi dite voi, ecco Divo Corighi è un nome molto interessante, secondo me è un giocatore sottovalutato, è vero non è mai stato un grande bomber, ma è anche vero che non ha mai giocato a titolare, è stato protagonista della Champions vinta dal Liverpool ed è un giocatore che comunque ha 26 anni, quindi è nel pieno della sua carriera, l'attaccante che mescola mobilità, ma anche tecnica, colpo di testa, fisico e struttura, è un nome che quando l'ho letto sinceramente ho pensato, beh se dovessimo sostituire Ibra con un giocatore, beh Orighi devo dire la verità, sempre rimanendo nel, come dire, sempre nelle valutazioni che il reparto del centro attacco è costoso, è difficile da trovare, è molto complicato arrivare a un centro avanti che possa essere veramente un crack, Orighi non sarebbe un crack, però secondo me sarebbe un giocatore che un po' come Abraham, cioè riuscirebbe a trovare la sua dimensione nel campionato di Serie A, potrebbe essere un bel punto di riferimento per il nostro attacco e potrebbe, come dire, essere un giocatore con caratteristiche diverse da Giroud, con caratteristiche diverse da Rebic, con un po' di uno e un po' dell'altro, ovviamente nella giusta dimensione, ma secondo me Orighi è un bel nome per il nostro attacco. Tra lui e Belotti, chi prendereste? Certo, anche lì sono giocatori con caratteristiche diverse, per il nostro gioco, se continuerà ad essere questo, Orighi probabilmente è più adatto come caratteristiche di giocatore. Se invece vorremmo, come dire, puntare più su Giroud, intorno a Giroud, e quindi cross, cominciare a lavorare su quella cosa lì, spero che in settimana Milanello, tra l'altro, si siano dedicati a questa cosa del cross, allora Belotti potrebbe essere l'ideale. Però ecco, Divo Corighi, vi lascio così, in questa domenica dove noi parliamo di mercato e tutti gli altri parlano di altro. Ditemi che cosa ne pensate, passate una buona domenica, pomeriggio, fatevi una buona cena e ci sentiamo dopo la partita. Forza Milan, naturalmente. Ciao.